Torni off the light and put your handphones Cosa devo fare? Un snack strong Un forte snack Cosa devo fare? Gioca Cosa devo fare? Aspetta, abbi pazienza No, no, no No, no Dai, che dopo non dormo Ma dai Adesso usa il mouse Usa il mouse Adesso lui si muove Adesso lui corre da solo Fida, ascolta me Lui corre da solo Ecco, questo qua è il primo capitolo Adesso lui corre Come vedi una porta a destra Qui ha scritto exit Ci pigi un po' di volte sopra A destra, a destra Girati a destra Lì, quella lì a destra Ma scusami, qual è la destra? Ma di là la destra Eh, noi di là Eh, vabbè, ma di manca Vai Cosa mi è successo che non ho visto? Ma va Vai, vai Vedi che sei andato? Non posso vedere questa roba No, adesso, adesso devi guardare No Dove lo fai? No, ma mi fai pressione a me sta roba qua No, no, dove lo fare? Ecco Allora, vedi che c'è la macchina Tu sei fuori? Ma non hai fatto niente Ma vai a vedere se la macchina hai Ma no, hai visto l'ombra Ma devi fotografare l'ombra Ma no E quello è lo scopo? No, no, no Dai Hai, hai fatto Segui l'ombra, con calma, non a cazzo Non riesco a fare Dai Non combino, mi fa schifo Dai, prova un attimo, dai Con calma, con calma, muoviti con calma Ecco Segui l'ombra e fai la foto No, madonna Non ce la faccio Ma dai Ma non c'è niente, è un gioco Mi piglia male Ma Che cazzo ridi? Ma ci fai? Dio cazzo Ma non c'è niente 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 Grazie a tutti.